E' tutto pronto per l'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto di Reggio Calabria. Sabato prossimo, nell'auditorium della Scuola Allievi Carabinieri Fava e Garofalo, l'apertura solenne da parte del Presidente della Corte d'Appello, Luciano Gerardis. Una cerimonia che anche quest'anno sconta la mancata fine dei lavori del nuovo Palazzo di Giustizia. Come per il 2017, il giorno prima, ossia venerdì 26 gennaio, nella Sala Monteleone del Consiglio regionale ci sarà un'iniziativa aperta alla società civile che mette d'accordo corte, procure e avvocati sulla necessità di coinvolgere la cittadinanza sul tema giustizia. Invitiamo la città a partecipare a un dibattito sulla giustizia che vorremmo dedicata ai non addetti ai lavori, che possono avere anche la parola, interloquire sulla loro percezione della giustizia. Reggio Calabria è chiaramente una delle capitali, ma probabilmente la più grande capitale, della criminalità organizzata di livello extranazionale, anche extranazionale se non mondiale. E questo, per converso, importa e pretende che sia anche la capitale dell'impegno antimafia. Consolato Minniti per la CNews24